Ecco qui, questo è un bell'incantesimo Ordino agli antichi spiriti di destarsi all'istante e di emergere dalle viscere della terra Sorgete! Cosa è stato? Forse uno spirito? Chi c'è là tu? E' il preside, se ci sorprende dopo l'ora del coprifuoco La scuola stregata! La scuola stregata! Ciao Andrea, allora come va la vita? Bene, sei carino a chiedermelo Questo vuol dire che usciresti con me? Non so come fai a restare così calmo la settimana degli esami, Martin Io sono a pezzi, le ragazze sono l'ultima cosa che mi viene in mente Ciao, quei libri sono pesanti, ti serve una mano? Sì, hai ragione, è un'ottima idea, Martin Oggi ce l'hanno tutte con me, non capisco Sei un'incosciente, perdi tempo a corteggiare tutte le ragazze della scuola e domani hai l'esame di storia Scusate ragazzi, ma devo andare a lezione, ci vediamo? Non ti agitare, Diana, c'è tutto il tempo per la storia Se non ti prepari per l'esame, la tua storia sarà finita Ti cacceranno, pensi troppo alle ragazze e troppo poco allo studio Ma di che cosa stai parlando? Se le ragazze non le guardo nemmeno Non smetti di fare lo stupido neanche per due secondi Figuriamoci per la settimana degli esami Questo è ridicolo, posso smettere di corteggiare le ragazze quando voglio D'accordo, dimostralo Dimostrartelo? Cosa? Che puoi smettere di corteggiare le ragazze durante gli esami No, no, aspetta, io non ho detto esattamente così Beh, certo, se non ce la fai Ah, posso farcela benissimo Anche se non mi sembra giusto nei loro confronti Se questo ti rende felice, non le corteggerò per una settimana Java non ha mai visto quella porta prima E poi come potrei farlo durante una missione? Il centro Martin Stern, identificato Diana Lomba, identificata Java e Saleduolo, identificato Eccoli qua Ciao, Willy Salve ragazzi, Martin conosci Guindaloo? Scusa, Billy, non l'ho notata Ultimamente non sono molto interessato alle ragazze Voglio proprio vedere quanto dura Martin, passami l'estintore per favore Grazie Il preside di una scuola femminile in Florida E' scomparso in circostanze piuttosto misteriose Andate subito a dare un'occhiata Una scuola femminile in Florida? Fantastica! Sì! Cioè, volevo dire che noia alle ragazze Beh, non fa niente Non preoccuparti, ora ci penso io Scusate Grazie tante, Martin Avrei preferito che non ci pensassi Incidente di percorso Beh, adesso al lavoro Da questa parte, ragazzi Speriamo che domani non mi interroghi Niente ragazze Come puoi pensare anche solo per un momento Che io prenda in considerazione l'idea di corteggiare le ragazze Sono un professionista E questa è una missione ufficiale Coraggio Vediamo con quale incredibile fenomeno abbiamo a che fare Il preside si stava dirigendo da questa parte Prima di sparire Ehi! Questa è sostanza viscosa super E segni irunici Qui si è verificato sicuramente qualcosa di incredibile Guida agli incantesimi per principianti Ho paura che il preside sia rimasto vittima della magia nera E tu sei vittima della tua galoppante immaginazione Guardate un po' qui Un ciondolo Ci sono incise delle lettere Z-quoli Chissà di chi sono le iniziali Posso essere più utile? Lo slime scan ha rilevato che quella sostanza ha centinaia di anni Forse risale addirittura ai tempi delle streghe È assurdo Martin Sono sicura che il preside supplente ha cose più importanti da fare Che ascoltare certe sciocchezze Una sostanza appiccicosa, un libro bruciacchiato di incantesimi Un preside scomparso Deve esserci di mezzo la stregoneria Mi sembra evidente La stregoneria? Martin, in un semi-interrato umido e privo d'aria Si crea della muffa Non una sostanza soprannaturale E le scritte eruniche? E il libro bruciacchiato? Sta attento, brutto stupido Le chiedo scusa Cioè, volevo dire Non c'è nessun problema Sono cose che capitano Se lei mi autorizza vorrei agire sotto copertura Per vedere se le studentesse sanno qualcosa Sì, certo Questa mi sembra un'ottima idea Andate a vedere se scoprite qualcosa Allora, Martin, come sta? Sembri una mummia col vestito della festa Credo proprio che svolgerò le indagini per conto mio Ci vediamo Vieni, Java Andiamo a indagare Accidenti! Java, guarda quelle ragazze Java, te l'ha già detto Niente, ragazze Che spettacolo! Eh, volevo dire Guarda come giocano Accidente! Hai visto che grinta? Non vorrei dover giocare contro quelle due Carrie, puoi venire? Che c'è? La nuova preside vuole vederti subito nel suo ufficio Eh, scusate ragazze Spostati! Che maleducate! In questa scuola non devono esserci molte ragazze con le iniziali ZQ Chi è? Che cosa vuoi? Lo riconosci questo? Il mio ciondolo! Grazie mille, apparteneva a mia nonna Ma scusa, tu chi sei e dove l'hai trovato? Mi chiamo Diana Sono arrivata da poco Mi sono persa mentre cercavo la sala mensa E sono finita nel seminterrato Hanno detto che non si deve andare nel seminterrato Tu perché eri lì? Stavo giocando insieme a delle mie compagne Con un libro di incantesimi Abbiamo sentito arrivare il preside E siamo scappate Ero nascosta dietro una colonna Quando... Zoe! La preside ti sta aspettando nel suo ufficio Scusami Diana Ne riparliamo più tardi Ho la sensazione che questa stanza esista da molti, moltissimi anni Infatti questi libri hanno tutta l'aria di essere molto antichi Scusa Java, mi prendi quello grande là in alto? Caduto? Stando al rumore ha fatto un volo di parecchi metri Ehi! C'è un passaggio segreto Two-watch attivato Occhiali alba selezionati Come facciamo ad arrivare dietro a questa libreria? Non riesco a spostarla! Ci sono riuscito Sembra freddo Buio Java ha tanta paura Esatto È per questo che dobbiamo indagare Siamo sulla buona strada Congratulazioni! Un ottimo lavoro Sono curioso di vedere che cosa c'è qui dentro Tutti oggetti che vengono usati dalle streghe Un calderone, una sfera di cristallo e soprattutto il grimorio Grimo cosa? Il grimorio, il libro degli incantesimi Sortileggi buoni e cattivi per coloro che praticano la magia, sia essa bianca o nera Bene, sembra proprio il tipo di lettura che preferisco Oh oh, Martin! Per mezzo di questo incantesimo la perfida strega nera venne imprigionata sottoterra Martin! Stiamo affondando! Aiuto! Resisti Java! Usciremo da qui Torno, Bungie, operativo Tieni di stretto Java! Uno, due, tre! Aiuto Martin! Java non respira! Tieni duro! Faccio un altro tentativo! C'è qualcuno? Signora Dory? Che cosa fate? Fermi, lasciate il pistone! Che fretta hai, Zory? Rilassati, credo che resterai con noi per molto, molto tempo Ah no! Incredibile! Qualcosa mi dice che la strega locale non ci vuole nei paraggi No! Il libro! Ehi, perché non fate attenzione? Ciao, Zoy, com'è andata con la preside? Che strano aspetto hai? Sicura di stare bene? Mi piacerebbe riparlare della storia del seminterrato, se hai... Non ce l'ho! Ma che cosa l'hai preso? Forse dovrebbe imparare a dire scusami! E magari anche ad usare un colluttorio Attenzione, a tutte le studentesse Assemblea obbligatoria nell'auditorium, con inizio immediato Diana! Allora, che cosa hai scoperto? Sta succedendo qualcosa di molto strano In questa scuola le ragazze si comportano come se fossero delle... Spreghe! Sì, esattamente Voi chi avete scoperto? Un baule contenente un libro di incantesimi E molte altre cose strane in un orribile seminterrato Secondo me c'è una strega in giro per la scuola Comincio a pensare che non sia una teoria così assurda Vado a vedere che cosa dicono all'assemblea Java e io ci introdurremo in galleria In caso ti serva il nostro aiuto Andiamo, Java! Benvenute studentesse Finora mi avete conosciuto come la signora Dory La vostra preside supplente Ma il mio vero nome è Brindella Griswolda Dory E in realtà sono Una strega! Aiuto! Caspita! E io che credevo che il nostro preside fosse tremendo Alcuni secoli fa Un incantesimo mi aveva intrappolata nella terra sotto questa scuola Ma finalmente Grazie a tre vostre compagne L'incantesimo è stato spezzato E sono tornata per rivendicare il mio legittimo posto A capo della nuova congrega di streghe Composta da... Oh no! Ci faccia uscire immediatamente da qui! Ti va di scherzare, cara? Oh mia! Diana ha bisogno di aiuto! Presto, Java! Novus Ordo Secolorum! E' chiusa! Siamo in trappola! Con voi nella mia congrega potrò governare di nuovo Non preoccuparti, cara Non ci siamo dimenticati di te Attenzione là sotto! Era ora, Martin! Andate, miei pedeli streghe! Catturateli! Catturateli tutti! Finalmente le abbiamo seminate Ma abbiamo perso Diana Spero che non sia nei guai Forte! Scusi, che trucco usa? Adesso basta giocare Voi due meritate una lezione Una lezione indimenticabile Adesso vi trasformerò in topi Esattamente come ho fatto con il povero preside Se non le dispiace Preferiremmo restare umani Ci sei anche tu Perfetto! Così almeno possiamo farla finita Una volta per tutte! Stavo per dire la stessa cosa! Attimo lavoro! Ma come sapevi che l'acqua l'avrebbe spaventata? Nel mago di Ozza ha funzionato E quando è rovesciato l'acqua nell'ufficio della preside Le ha dato fastidio La soluzione è rispedire Griswolda Da dove è venuta? Più facile a dirsi che a farsi Ehi, aspettate un momento Il libro! Il libro che usavano quelle tre sciocchi? No, quello che ho trovato in biblioteca Forza, torniamo a prenderlo Troppe streghe in giro Già va a ragione, voi andate Forse riesco a farvi guadagnare tempo Ottimo piano, ma se ti catturano Prima che riusciamo a liberarci della strega? Allora farò il mio primo incantesimo su di voi Eccola lei! Oh no! Via libera adesso Deve pure esserci un incantesimo Per liberarsi di una strega Come quello che l'ha intrappolata sottoterra la prima volta Sbrigati Ecco, l'ho trovato Andiamo! Per scacciare una strega nel mondo inferiore E prendere una bacchetta di cuaccia sagra Tracciare un cerchio sul pavimento E girare intorno tre volte Dicendo tre volte al cerchio Legata a malefica strega in terra affondata Vedrai, ti piacerà unirti a noi Sì, non vedo l'ora Chissà quanto risparmiate in trattamenti di bellezza No, grazie Stupendo! Finalmente la mia congrega è completa Io non ci scommetterei Povero il luso Pensi di poter fermare Prindella Griswoldadori Maestra delle arti oscure Con un volgare bastone? Temo che un topo sia anche troppo per te Che cosa ne dici di un bel rospo? Agnosco veteris vestigio flamme Provo Tre volte al cerchio legata Maledetto, che fa? Uno Due Maletica strega nella terra affondata C'è l'abbiamo fatta, Java L'incantesimo ha funzionato Grazie per avermi salvata ragazzi Non so come avrei resistito ad essere una strega per l'eternità Non credo che sarebbe stato molto difficile La differenza si notava a malapena A Java Diana piace molto più così Sembra che siano in arrivo altre congratulazioni Grazie Grazie Ci avete salvato Figuratevi ragazze Non vale amministrazione Un'altra missione conclusa con successo Mom, che bello rivederti Puoi portarmi subito via da qui? Ma non puoi andartene da una scuola piena di ragazze Che non sanno ancora quanto sei stupido Martini andare Devo scappare, mi dispiace Devo studiare per gli esami Forti, vedi Ci voleva una congrega di streghe Per far dimenticare a Martini le ragazze per una settimana Per far dimenticare a Martini le ragazze per una scuola piena di ragazze Per far dimenticare a Martini le ragazze per una scuola piena di ragazze Per far dimenticare a Martini le ragazze per una scuola piena di ragazze Per far dimenticare a Martini le ragazze per una scuola piena di ragazze per una scuola piena di ragazze Grazie.